macro categoria studi e boutique legali e professionali categoria M&A il premio è quello di studio professionale dell'anno operazioni straordinarie la motivazione per il costante aggiornamento la chiarezza e la trasparenza delle soluzioni proposte e per il focus sul cliente sempre supportato dalla fase di studio analisi a quella di realizzazione di ogni singolo progetto il premio va a CLA Consulting e sale sul palco per ritirare il premio Beatrice Bertogli partner Beatrice benvenuta grazie questo è il suo premio dopo lo ritira le chiedo subito un commento a caldo quindi cosa significa questo riconoscimento per lei e per voi naturalmente questo riconoscimento costituisce un traguardo rispetto a dei valori che contraddistinguono da sempre il nostro studio e l'approccio alla clientela spiegato e sintetizzato nelle motivazioni che avete espresso le chiedo solo chiarezza trasparenza ovviamente delle soluzioni proposte il focus sul cliente rappresentano un po' la vostra mission continua? sì a noi piace abbinare un approccio tecnico a cui però c'è sempre un aspetto molto molto focalizzato su quello che sono il desiderato e le esigenze del cliente da questa la nostra forza ottimo allora la invito a ritirare il premio fisicamente naturalmente ci rivediamo anche l'anno prossimo assolutamente sì e grazie d'accordo complimenti ancora grazie a Beatrice Bertoldi partner di CLA Consulting